ciao a tutti ragazzi e vi do il benvenuto in un nuovo video oggi siamo quasi alla fine del programma scarico dell'acqua l'acqua sta venendo scaricata tramite la pompa di scarico e adesso prepariamoci alla centrifuga finale di la cittadina finale a 1200 g bilanciamento del carico ciao 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 bene ragazzi con questo video è tutto spero che vi sia piaciuto se vi è piaciuto lasciate un bel commento e un bel mi piace iscrivetevi al canale e noi ci rivediamo al prossimo video buona visione con la centrifuga finale a 1200 g ciao ragazzi grazie a tutti 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.